Bentornata family, bentornati su Jumar's channel Oggi facciamo una cosa fighissima Sigla Come avete visto dall'anteprima e come avete letto dal titolo immagino O dalla descrizione che non leggete mai ma dovete farci più attenzione Oggi creiamo un bracciale con la Cosclay La Cosclay come avete visto è... senza che ve lo dico più oramai È la pasta della vita Sì esatto e ci sto veramente facendo di tutto Tutte cose che prima magari non facevamo noi creativi Tutte cose che non facevo io per paura che si spezzasse qualcosa Per paura che la creazione una volta spedita arrivasse distrutta Come è capitato tante volte abbiamo dovuto rimborsare i nostri appunto clienti I nostri iscritti che hanno acquistato qualcosa da noi Adesso tutto questo non c'è più Semplicemente dobbiamo creare, imballare e spedire Senza fare mille matriosche nelle scatole Ma adesso andiamo avanti, vediamo il video E poi parliamo un po' alla fine Ciao! Eccoci qua con la nostra bellissima amata Cosclay Cominciamo con i soliti salsicciotti Io non ho mai fatto una creazione in questa maniera Non ho mai creato un bracciale Oh no, forse sì, forse tanto tempo fa con l'angelina Vabbè, non fa niente Questo è il primo fatto in pasta Perché ragazzi la pasta è sempre stata molto fragile Non si era mai sicura di fare quello che volevi fare Quindi niente, adesso mi sono detto con la Cosclay Visto che posso farlo, lo farò, punto e basta Ho iniziato a modellare la mia bella testolina come vedete E mi assicuro di attaccarla bene al suo corpicino Non ho preso misure, non ho preso un cavolo Addirittura anzi vi dico già adesso Partiamo dal presupposto Che ero convinto di aver messo il fil di ferro nella pasta Non chiedetemi come, quando, perché Ma ero convinto che c'era il fil di ferro nel corpo Quindi ve lo dico già da adesso L'ho aggiunto dopo con una seconda cottura Mettendolo, diciamo, appoggiato al corpo finale Vabbè, finiamo un attimo di vedere questo video E poi ve lo spiego meglio magari dopo Ho inserito le solite perline nere di vetro Che trovo qui da Pakistani a Napoli Perché qui siamo pieni di questi negozietti Quindi vetro nero, tranquillo, in forma, può andare Inserisco subito le mie bellissime Come si dice, palpebre inferiori E poi quelle superiori da entrambe le parti E mi assicuro come al solito che tutto combaci Siccome la guancia del dragotto era troppo piccolina Ho deciso di aggiungere un altro po' di pasta Dandole ancora di più Un senso di pienezza Perché era troppo troppo magrolino E seccolino E parlava tutto così Con l'ago che ho creato con questo strumento Vado a infilare un po' di più la pasta Essendo già un po' la boccuccia un po' più realistica Eh sì, questa è una scatoletta di tonno Non mi chiedete perché, come e quando Anche qui Però non avevo un barattolo per prendere la misura Quindi l'ho rivestitato con carta da forno E lo scotch carta, la carta gommata classica Quello giallino paglierino per pitturare, per pittare casa E ci ho avvolto il mio draghetto Che non si manteneva ovviamente Questa pasta è ottima Ma non ha tanta di quella seccosità che hanno le altre paste Quindi mi sono ingegnato Ho detto adesso lo incarto Come un regalo di Natale E lo faccio rimanere fermo Anche perché poi mi serviva una base per farlo rimanere così Quindi ho preso il portacellulare per farlo poggiare su Metti le corna di qua Inserisci le corna di là E ragazzi è stato un parto Perché veramente Non sapevo proprio in che direzione andare Essendo la mia prima volta con un bracciale in questa maniera Ovviamente vado ad assicurare le corna con un po' di carne dragosa In modo che sembri che spuntano proprio dalla carne Dalla parte destra e dalla parte sinistra E aggiungo un'altra corna Avrei voluto metterne altre magari un po' di corna in più Però vabbè, bifanella O magari sul braccio uno si ammazzava Che ne so magari cecavi l'occhio a qualcuno Vabbè Inseriamo ovviamente le sopracciglia Che danno quel tocco in più di espressione al nostro cucciolo E vado ad inciderle leggermente Per dare il senso di pietroso Un po' scagioso Adesso facciamo le ali Andiamo un po' veloci Perché penso che le avete viste un po' tutti Ma molti magari passeranno di qui e non le vedranno Quindi devo farle vedere Ve ne faccio vedere solo una In modo che Andiamo più veloce Schiacciate bene il fil di ferro nella pasta Mi raccomando In modo che penetri Più il nostro bel sasticciotto Che va a coprirlo Schiacciate sempre bene In modo che stiamo sicuri che Il pezzo di fil di ferro Sia inglobato all'interno della nostra ala Guardate qui Non è difficile Perché vuole un po' di manualità Tutto qui Poi Andiamo ad assicurarci che Questo sasticciotto Si attacchi per bene Mi raccomando Per bene Dico per bene davvero Se no è spunta tutto fuori Mettiamo le nostre belle ossa Le nostre parti ossute dell'ala Io ne metto sempre due centrali E una minuscola Diciamo Come se fosse il gomito Bene o male Sul gomito Adesso ve lo faccio vedere subito In basso qui Eccolo qui E mi assicuro Che sia attaccato a questo Con l'exacto knife Vado a ritagliare la mia aletta Scusate per la mano davanti Ma dovevo per forza metterla E togliamo la pasta in eccesso La nostra ala è pronta Solo quando con lo sgarzino O con qualche altro aggeggio Vado a dare altri dettagli Per rendere l'ala più bella possibile E' arrivato il momento Di inserire l'ala Nel corpo del nostro draghetto Non ho preso manco le misure Sono andato ad occhio Ma sembra che ci stia Abbastanza bene come misura Andiamo a mettere un po' di pasta Aggiungiamo un po' di pasta Qui e lì Per farla aderire sempre meglio Inseriamo anche la seconda Che non l'avete visto Ma era inutile E adesso già comincia a prendere vita Avevo il dubbio Se mettergli le zampe posteriori o meno Però non gliel'ho messa più Questa texture che vedete E' solo una prova Perché non mi è piaciuta dopo Ho rivestito di nuovo il drago E gli ho fatto quella solita Che faccio con la zanzariera Infatti la vedrete poi alla fine Alla fine ho detto Secondo me la coda è troppo corta Non chiuderà mai tutto il polso Perché io ho il polso gigantesco E comunque essendoci il fil di ferro Comunque si può sempre attorciare attorno al braccio Però ho detto Vabbè facciamoci una bella pinna finale Una bella coda Vistosa In modo che Mi aggrappa per bene tutto Ed eccola qua E' nata anche la coda Diciamo finale Da attaccare alla coda Del nostro cucciolotto Attaccatela bene sia sopra che sotto Mi raccomando Non ve l'ho fatto vedere il sotto Ma va fatto per bene Cuociamo 135 ore per 30 minuti Eccolo qua ben cotto Ragazzi miei E' una figata pazzesca Questa skin tone Della Cosplay Sa proprio di pelle vera Mi fa impressione Guardate qui che flessibilità Io Oramai non ho più parole Cioè E' qualcosa di assurdo Adesso Come promesso Oramai vi farò vedere sempre Come dipingerò il mio draghetto Le mie cose Ecco i model hair Della Vallejo Con il quale appunto Che utilizzerò con il Mio fantastico Airbrush Aerografo I guanti neri Ci ripiazziamo sulle mani E siamo pronti Mi raccomando Attacchiamo sempre un po' di scoccio Qualcosa per proteggere gli occhi E' una cosa in più Potremmo anche colorare sugli occhi Però dovremmo andare a togliere dopo Tutto l'eccesso dei colori E si grafferebbe anche un po' la perla Quindi io preferisco mettere un po' di scotch Carta e via Adesso niente Vi lascio alla colorazione E ci sentiamo dopo Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Vedete gli altri video, è importantissimo andare a vedere anche gli altri video, ve li lascio qui. Ci vediamo la prossima volta. Like, iscrizione e commenti a manetta. Nome e storia, vi aspetto. Grazie mille. Acchiappatevi, acchiappatevi, ciao.